Buongiorno ragazzi, oggi parliamo dell'arte paleocristiana. Gli eventi importanti dal punto di vista storico che fanno sì che si possa formare questo tipo di arte ovviamente sono uno, la nascita di Cristo, anno zero ovviamente, e l'altro l'editto di Costantino, meglio conosciuto come Editto di Milano. Se non l'avete ancora studiato, riassumo velocemente, Costantino, imperatore romano, liberalizza, rende legale il culto cristiano, perciò l'arte che prima era un tipo di arte già nata e che però doveva stare nascosta in un certo senso perché altrimenti si veniva arrestati se si era cristiani può essere libera e diventerà l'arte poi ufficiale dell'impero. L'arte paleocristiana, perciò, possiamo situarla dal III secolo d.C. fino al 476 d.C., anno della caduta dell'impero romano. Lo dividiamo in due parti, cioè la fase della persecuzione dei cristiani e la fase del cristianesimo liberalizzato. La prima cosa che dobbiamo dire e che trovate a pagina 110, tutto il capitolo sull'arte paleocristiana sta a pagina 110, 111, 112, 113, in queste quattro pagine, insomma, dobbiamo parlare delle catacombe. Cosa sono le catacombe? Sono delle gallerie sotterranee, chiaramente delle necropoli, cioè dei cimiteri, con delle tombe. Erano dei luoghi sfruttati anche dai romani per costruire i cimiteri, per seppellire i propri morti. I cristiani li rendono particolarmente importanti intanto perché i cristiani danno un significato molto forte alla vita ultraterrena, è il riposo nell'attesa dell'apocalisse, cioè nell'attesa del ritorno di Gesù Cristo che è resuscitato, giudicherà tutte le persone e deciderà se queste persone saranno ammesse nel regno dei cieli o dovranno andare all'inferno. questo è in sostanza il culto cristiano. Oltre a questa importanza erano utili ai primi cristiani anche perché alcuni riti si potevano svolgere anche nelle catacombe. In realtà la maggior parte dei riti, anche se fatti in segreto, si svolgevano nelle case, soprattutto la messa nelle ville, nelle domus di alcuni ricchi signori che erano chiaramente cristiani e ospitavano i fedeli per svolgere questo rito. Non dovete pensare ai primi cristiani solamente come delle persone di basso rango, ma anzi il cristianesimo viene poi liberalizzato anche perché tanti patrizi erano diventati cristiani. In fin dei conti anche Costantino poi, essendo un imperatore, è la persona più importante di Roma eppure diventa cristiano. Perciò la catacomba è una galleria sotterranea che funge da necropoli, che serve da necropoli. I cristiani decoravano le tombe e i sarcofagi dei loro cari, dei defunti, con degli freschi elementari. Non potevano rivolgersi a degli artisti, a degli specialisti dell'affresco, perciò spesso sono anche delle forme molto semplici e molto rudimentali. Ovviamente qualche cosa invece sarà più elaborata. La cosa importante è che per non farsi scoprire, le decorazioni su queste tombe erano più che altro dei simboli, dei simboli esoterici. Cosa significa esoterico? Esoterico significa segreto. Cioè solo chi conosceva il significato di quel simbolo poteva capire che era un simbolo cristiano. Una statua che è simbolica e che è molto diffusa in quest'epoca è per esempio la statua del Buon Pastore. Che significato ha il Buon Pastore? Il Buon Pastore in realtà è Gesù che tante volte nel Vangelo parla dei credenti del proprio popolo come gli agnelli e Dio è il pastore che cura il proprio gregge. Non solo nel Vangelo ma anche nella Bibbia ci sono tanti passi di questo tipo. In realtà tanti simboli, come anche questo, sono simboli che sono stati presi da altre civiltà. Per esempio già nell'antica Grecia c'era la figura del Buon Pastore. anche se non si trattava di Gesù. Era una figura positiva che potete leggere sul libro ricordava perciò dei sentimenti di aiuto e di accudimento nei confronti degli altri. altri simboli cristiani che possono venirvi in mente anche a voi sono molto semplici. Per esempio la vite che raffigura il sangue di Gesù, l'uva perciò, oppure la colomba che simboleggia la Pasqua. Adesso trattiamo invece dell'arte paleocristiana. Non vi ho detto che paleo, se spezzate la parola, significa antico e cristiana ovviamente significa che segue il culto cristiano. Dunque arte paleocristiana vuol dire dei primi cristiani e cristiani antichi se proprio vogliamo tradurla letteralmente. Dopo il 313 il cristianesimo, finalmente libero, deve scegliere di costruire dei luoghi di culto dove svolgere i riti, per esempio per svolgere la messa o per battezzare. Allora cosa fanno i primi architetti che si occupano di queste cose? Costruiscono degli edifici su modello degli edifici che venivano già costruiti dai romani precedentemente a quest'epoca. Perciò si prende la basilica come modello per le prime chiese. La basilica, che oggigiorno noi, se sentiamo questa parola, siamo portati a pensare che sia una chiesa, e ovviamente oggigiorno lo è, in realtà era un edificio utilizzato dai romani per scopi civili. Significa che era non un edificio religioso ma un edificio utile alle funzioni quotidiane della città. Spesso nella basilica si facevano le assemblee e comunque era il luogo dove stava il tribunale. invece i primi cristiani lo prendono come modello per le chiese. Adesso state bene attenti perché questi elementi della basilica paleocristiana sono poi gli elementi che ritroveremo in tante chiese anche successivamente e dunque almeno fino al 600 quando parleremo di chiese parleremo anche di questi elementi perciò dovete impararli. Il primo che caratterizza proprio le basiliche è il quadriportico cioè una parte aperta con dei portici, dei giardini dove poi si situa l'ingresso che vedete è messo qui. Questi quadratini piccoli e neri sono i pilastri o le colonne a seconda delle volte perciò noi cosa abbiamo? Un portico dunque uno spazio aperto ma coperto quadrato con un buco al centro dove di solito ci sta una fontana una fonte oppure anche semplicemente uno spazio. Serviva ai primi cristiani visto che ci si faceva battezzare da adulti che molte persone sceglievano di diventare cristiane in età adulta serviva per radunare tutte quelle persone che non erano ancora state battezzate ma che comunque volevano assistere alla messa ebbene le persone non battezzate non avevano accesso alla chiesa non potevano entrare in chiesa e perciò dovevano assistere alla messa dall'esterno c'era questo quadriportico che serviva per radunarli. Ovviamente come vi ho già detto c'è un ingresso spesso l'ingresso è situato verso ovest. All'interno la prima parte è data dalle navate le navate sono dei grandi corridoi alcune volte ce n'è solo uno centrale e unico altre volte sono tre come in questo caso altre volte ancora per le basiliche molto grosse sono cinque e perciò si distinguono in navata centrale e navate laterali chiaramente navata laterale sinistra guardando dall'ingresso e navata laterale destra. Qui ci si riunivano i fedeli battezzati per assistere alla messa spesso gli uomini stavano da un lato e le donne dall'altro ma in alcune chiese abbiamo un elemento che si chiama matroneo che è una balconata e che ospitava appunto le donne stava sopra in alto invece gli uomini stavano sotto questo altro elemento trasversale perpendicolare rispetto alla direzione dei fedeli si chiama transetto non c'è in tutte le chiese ma in molte basiliche paleocristiane questa è proprio la forma della basilica romana lo troviamo la parte conclusiva della chiesa si divide in due la prima zona è il presbiterio qui è dove c'è l'altare e l'altare chiaramente deve essere circondato dai sacerdoti il presbiterio è un luogo al quale hanno accesso solo i sacerdoti solo chi celebra il rito in ultimo non c'è in tutte le chiese ma la parte finale dove oggigiorno c'è l'altare maggiore e dove c'è un mobiletto che si chiama tabernacolo che ospita l'ostia sacra quella che viene considerata il corpo di gesù insomma si chiama abside che significa posto proprio significa posto dietro messo dietro abside ok abside è una parte rotonda si vede anche dall'esterno della chiesa di solito tante volte soprattutto in ambito monastico cioè dei monaci questa zona ha tantissimi posti per sedersi tantissimi scranni si dice troni per sedersi e perché ci si siedono tutti i sacerdoti o tutti i frati che celebrano la messa non si utilizza solo la forma della basilica ma vengono anche studiate delle nuove forme o prese delle forme diverse che non sono quelle della basilica per costruire degli edifici a pianta centrale dopo vi spiego che significa è il caso per esempio del battistero che è il luogo dove vengono battezzate le persone dunque c'è questo rito per diventare cristiano e il mausoleo cos'è un mausoleo ricordatevi che è una tomba monumentale cioè molto grande è un monumento praticamente e che viene di solito costruita per le persone importanti chiaramente un mausoleo non viene costruito per chiunque ma solo per i grandi personaggi troviamo diversi tipi di edifici che anche questi dovete ricordare perché queste non fanno parte solo dell'arte paleocristiana ma prendo lo spunto l'occasione di questa lezione per farvi conoscere tutte le diverse piante che troveremo nel corso della storia dell'arte vi ricordo che la pianta è la visione di un edificio dall'alto spesso come se fosse scoperchiato insomma è il progetto ok allora intanto si dividono in due diverse tipologie la pianta centrale e la pianta longitudinale la pianta centrale è quella pianta cioè quel disegno che viene sviluppato intorno ad un centro spesso le distanze da qualsiasi punto della costruzione sono le stesse cioè per arrivare al centro si percorre la stessa distanza la pianta longitudinale invece è sviluppata lungo un asse cioè c'è una direzione precisa per esempio la basilica paleocristiana è una pianta longitudinale si sviluppa lungo questo asse qui che ho detto che è l'aste ovest est a tra l'altro come mai sono orientate così le basiliche perché mettevano l'altare il più delle volte non sempre mettevano l'altare posizionato verso est cioè il sole che sorge simbolicamente era il segno di cristo che risorge ok quali tipi ci sono di piante centrali e quali tipi ci sono di piante longitudinali le abbiamo suddivisi anche per facilità in tre ciascuno la pianta centrale può essere circolare cioè quando l'edificio è un cerchio visto dall'alto può essere ottagonale cioè quando è un ottagono oppure può essere a croce greca come facciamo a spiegare questa croce greca se proprio volete dirla in maniera non corretta però per farvi capire potete raccontare che è la croce come quella dell'ambulanza oppure come quella della bandiera della svizzera o della farmacia in realtà dobbiamo dire che ha i bracci di uguale lunghezza attenzione quando si tratta degli oggetti quelle che noi potremmo chiamare braccia devono essere chiamate al maschile bracci ok perciò vediamo che i bracci sono tutti lunghi uguali in questo caso è una croce greca le piante longitudinali quelle sviluppate lungo un asse si dividono in pianta ad aula molto semplice come la vostra aula di scuola cioè rettangolare la pianta a croce latina significa che questa forma è stata sviluppata soprattutto dai romani ok latino vi ricordo dell'aggettivo che riguarda i romani dell'antichità e infatti è la stessa pianta che hanno le basiliche come facciamo a raccontarla per distinguerla dalla croce greca possiamo dire che ha un braccio più lungo e poi la pianta a croce commissa per spiegarlo in maniera più facile possiamo dire che manca un braccio o comunque che ha la tipica forma a t queste sono le diverse tipologie ricordatevi tutto per il test a scuola vi auguro una buona continuazione alla prossima